Si è svolto mercoledì scorso presso il Parco Hotel di Desenzano del Garda l'incontro decisivo per rilanciare, con un'azione congiunta e coordinata, il patto di promozione territoriale che include l'intero bacino turistico venacense. Sottoscrittori dell'accordo che porterà nelle casse gardesane 600.000 euro nell'arco di tre anni sono quattro. Da un lato il consorzio Garda Unico, ovvero lo strumento operativo del marketing turistico del lago, a cui partecipa anche Garda Trentino SPA, rappresentato dal presidente Marco Benedetti e il direttore Roberta Maraschin. Dall'altra parte c'erano le delegazioni degli assessorati al turismo di Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento, guidate rispettivamente dagli assessori Mauro Parolini, Federico Caner e Michele Dallapiccola. I fondi stanziati serviranno per consentire al lago più grande e più apprezzato d'Italia di continuare a veicolare la propria immagine di luogo di villeggiatura d'eccellenza, prima scelta di vacanza per decine di milioni di turisti ogni anno. Le operazioni attuate finora da Garda Unico comprendono partecipazione a fiere e organizzazione di eventi sui principali mercati europei ed extraeuropei, campagne di comunicazione e pubblicità veicolate attraverso giornali e televisioni, visite guidate per tour operator e giornalisti.